Allora partiamo con la lezione di oggi e oggi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di due cose semplici ma utili, diciamo così, semplici perché in parallelo continuiamo ad andare avanti con la ricorsione che quindi con i vari esercizi ci sta assorbendo le energie mentali. E quindi infiliamo questi due argomenti a completamento della parte iniziale per poi iniziare dalla settimana prossima invece a parlare di grafi e quindi cambiamo abbastanza contesto. Allora il primo argomento è legato al database, anzi sono due sotto argomenti e da tempo che, diciamo dalle prime volte in cui abbiamo usato JDBC per accedere, per fare query del database che abbiamo un problema, o meglio ci facciamo un problema. Io ho preso come esempio il codice della soluzione del laboratorio 5, che adesso vi mostro qua, un pochino più in grande, dove a un certo punto c'era un metodo isCorrect, ricordate quello degli anagrammi in cui dovevamo trovare quali, non solo gli anagrammi di una parola ma che questi anagrammi fossero effettivamente compresi nel dizionario. Nelle parole del dizionario, c'è un problema di audio? Vediamo un attimo se riusciamo, un po' gracchiante, vedete? Ho il microfono giusto collegato? Sembra che si... Bastiglioso rumore di fondo, le cuffie... Un attimo, allora facciamo... Ok, allora, abbiamo risolto, spero, il problema audio, se no me lo risegnalate nuovamente. Dicevamo, abbiamo generato con la procedura ricorsiva tanti potenziali anagrammi e uno per uno li abbiamo dovuti controllare rispetto al database, chiamando, chiaramente, un metodo, in questo caso si chiamava isCorrect, della classe DAO. E cosa fa questo metodo isCorrect? Apre una connessione, esegui una query semplicissima, che poi è questa, e poi ritorna il risultato, vero o falso, essenzialmente. Allora, possiamo immaginarci che la maggior parte del tempo di esecuzione viene speso in questa riga, nell'aprire la connessione. Aprire una connessione su un database ha un costo, in termini di tempo di esecuzione, che è costante, che significa aprire una connessione a livello di rete, significa passare la password, selezionare il database, eccetera, eccetera, quindi quei 20-30 millisecondi se ne vanno per quello. Per una query che, in realtà, in quanto query richiede un tempo praticamente ridicolo, nel senso che se io vado a prendere il mio dizionario, e faccio una query di questo tipo, select, facciamo proprio uguale, nome, from, parola, nome, from, parola, where, nome, uguale, gatto, che ne so, il risultato avviene immediatamente in un tempo di esecuzione che lui non è neanche stato capace a misurare, 0,000, meno di un millisecondo, no? Stiamo parlando di frazioni di millisecondo. Ecco, mentre invece, se provate a fare un programmino che faccia la getConnection in un loop, vi accorgete che invece la connessione stessa richiede magari 20-30 millisecondi ogni volta. Questo vuol dire che il 95% del tempo speso da questa iscorrect, che poverina viene chiamata milioni di volte, perché sono tutti gli anagrammi, e questo è il motivo per cui abbiamo dovuto mettere il limite, nella soluzione, ad esempio, c'è un limite a 8 lettere massime, il 95% del tempo viene speso qui. E quindi noi abbiamo un programma che essenzialmente va al 95% più lento di quanto potrebbe andare. Perché? Perché ogni volta, l'abbiamo scelto così all'inizio, ogni volta che devo fare una query, apro una nuova connessione, faccio la query e abbandono la connessione. E questo è una buona idea, no? Nel senso che poi ogni query è separata dalle altre, non si accavallano, sono isolate, eccetera, eccetera. Però adesso cominciamo a porci, se devo fare una query grande, diciamo così, complessa, non è un problema. Perché magari la query complessa impiega diversi secondi a essere eseguita, mentre invece la connessione impiega qualche millisecondo. Quindi, va bene. Il problema nasce nel momento in cui io faccio moltissime, moltissime vuol dire mille, diecimila, centomila, milione di query semplici. E allora a questo punto l'overhead di aprire la connessione ogni volta diventa, diciamo, significativo, diventa il termine, diciamo così, dominante della mia velocità di esecuzione. Allora, cosa posso fare? La tecnica che si usa è la cosiddetta tecnica di connection pooling, che si basa essenzialmente sul fatto di avere già più una o più connessioni già aperte. Cioè noi apriamo una serie di connessioni all'inizio, quando il programma parte. E quindi, ovviamente, quando il programma parte ci sarà un piccolo ritardo, nel senso che il programma deve collegarsi al database e aprire le connessioni 1, 2, 5, 10, dipende poi da un parametro configurabile, a seconda di ciò che dovrà fare il programma. E i metodi del DAO, diciamo, non aprono nuove connessioni, ma di fatto prendono in prestito una delle connessioni che già esistono. Quindi abbiamo un meccanismo in cui c'è un pool di connessioni, un gruppo di connessioni pronte, e quando voglio fare un acquiri, prendo una connessione in prestito, faccio un acquiri e poi alla fine restituisco la connessione al database. Mi dite che ci sono nuovi problemi audio? Come prima? Allora, faccio una prova diversa, di cambiare microfono, poi mi dite. Allora, dicevamo, c'è questo meccanismo di prendere in prestito e restituire una connessione da questo pool di connessioni che sono a questo punto gestite dal sistema, gestite in modo centralizzato. Questo meccanismo non dobbiamo preoccuparci noi direttamente di gestire questo pool, ma è già previsto dallo standard JDBC. Adesso non ve la faccio troppo lunga. Noi abbiamo sempre usato una classe che si chiamava Driver Manager per ottenere le connessioni. In realtà nella nostra standard JDBC è prevista anche un'altra classe, in realtà un'interfaccia, che si chiama DataSource. Questa interfaccia DataSource ha proprio lo scopo, un nome un po' strano, ha proprio lo scopo di gestire dei pool di connessioni. E quindi noi impareremo a modificare, ma a questo punto sono due modifiche banali, la nostra classe di ConnectDB per usare non più uno semplice Driver Manager, ma la DataSource. E il vantaggio di questo metodo è che alla fine viene sempre restituito un oggetto di tipo Connection. Quindi noi non dobbiamo modificare minimamente il resto del programma. Dobbiamo semplicemente modificare la parte di codice in cui andiamo ad acquisire la connessione, e anziché chiederla al Driver Manager, la chiederemo all'oggetto che si chiama DataSource. Questa è l'unica differenza, diciamo così, significativa per noi. E vedremo che, ma poi abbiamo, magari lo misuriamo con i nostri programmi veri, un incremento significativo di prestazioni, perché tutte le volte che creiamo una nuova connessione, a questo punto diventa un'operazione a costo zero, perché la connessione in realtà c'è già. Allora, esistono, come sempre nel mondo JDBC, lo standard definisce le interfacce, ma poi ci vuole qualcuno che queste interfacce le implementi. Esistono varie librerie che implementano questo DataSource, questo Connection Pooling, sopra, diciamo così, il livello JDBC. Io ne ho segnate qua due, una si chiama Icari, l'altra si chiama C3P0. Sono abbastanza equivalenti, sono due librerie open source che fanno, diciamo così, essenzialmente lo stesso lavoro. Qualche anno fa usavamo C3P0, poi siamo passati a usare Icari, il chipista per Connection Pooling, perché loro dicono che sia più veloce, più snella, ma in realtà, per quello che serve a noi, sono abbastanza equivalenti. La libreria Icari cosa fa? Aggiunge le capacità di Connection Pooling al driver JDBC esistente, quindi qualunque sia il nostro driver JDBC, ad esempio quello di MariaDB che usiamo, sopra di questo viene aggiunto un layer, un livello di Connection Pooling. Poi in realtà fa altri tipi di ottimizzazioni, come ad esempio il cosiddetto Statement Cache, ossia se la libreria si accorge che sto facendo la stessa identica Statement un attimo dopo, ad averlo già fatto in passato, lui si ricorda la risposta precedente e evita di rifare la query, perché conosce già la risposta e se l'è memorizzata. Però questo, diciamo così, è un'ottimizzazione minima, perché raramente noi rifaremo più volte la stessa query. L'unica, diciamo così, piccola complicazione di questa libreria è che ha bisogno di un'altra libreria per funzionare, una libreria che si chiama SLF4J, Simple Logging Fassal for Java, che è una libreria di logging. Cos'è il logging? Il logging è una... E quindi vedete, che lo vediamo qua, dalle dipendenze Maven che ci sono già nei nostri progetti, ma noi non li abbiamo ancora usati, c'è questa libreria IcarCP, e poi ci sono queste due altre librerie di Simple Logging for Java. Quindi noi ce l'abbiamo già configurato nei nostri progetti, non dobbiamo fare nulla di particolare. Le librerie di logging sono quelle che permettono di stampare dei messaggi di warning o di errore in modo strutturato e non semplicemente con delle system.out.println, no? Quindi se volete dare un'occhiata, questa libreria Simple Logging for Java, in realtà non è una libreria vera o propria, lui si chiama, si autodefinisce una facade for Java, no? Quindi di fatto è un... Un facade è un pattern di programmazione, no? In cui non entriamo più di tanto, che fornisce un'interfaccia uniforme a più librerie sottostanti che in realtà avrebbero interfacce diverse. Quindi lui si mette davanti e dice, vabbè, se tu puoi usare la libreria di logging che vuoi, ma se usi questa facciata, questa livello di facciata, in certo senso, traduttore in italiano, allora puoi chiamare gli stessi metodi indipendentemente dalla libreria che ci sta sotto. E cosa fanno? Ci permette di stampare dei messaggi, ti dà una classe Logger, che ci permette di stampare dei messaggi a diversi livelli di gravità. Quindi ci sono dei messaggi di tipo info, ci sono dei messaggi di tipo warning, messaggi di tipo error, e queste librerie di logging permettono di configurare dove vanno a finire questi messaggi, se vanno a finire sulla console, se li salviamo in un file, se li salviamo in un database, se li mandiamo a un altro server, quali messaggi vengono effettivamente salvati, quindi io voglio solo salvare i messaggi di errore, oppure solo salvare i messaggi di warning, in qualche modo queste librerie servono per disaccoppiare il problema di stampare un messaggio dal problema di dove metterlo e se visualizzarlo oppure no. Quindi il programmatore, se deve stampare magari dei warning, li stampa tranquillamente, non facendo system.out, ma usando le librerie di logging, e poi nella configurazione del logger, cioè un file di configurazione, gli dico guarda io voglio salvare in questo file solamente gli errori. E quindi le istruzioni di warning scritte dal programmatore non vengono salvate da nessuna parte, magari perché il programma sta funzionando. Se invece poi il programma non funziona, basta che io modifichi la configurazione del logger, e mi verranno salvati anche i messaggi di warning e di informazione eventualmente. Quindi salvo dei messaggi solamente quando mi interessa andare poi a leggerli, perché sto cercando di approfondire ad esempio un bug o cosa di questo genere. Adesso noi non ci spenderemo troppo tempo, volevo solo accennarvelo perché, visto che la libreria Icari usa questa libreria di logging, per i suoi scopi interni, per scrivere i suoi messaggi internamente, in realtà poiché questa libreria è già installata, volendo potremmo usarla anche noi. Noi in realtà la usiamo nella modalità semplice, come abbiamo visto prima, c'è questa API che è la facciata, e poi c'è una libreria concreta che si chiama in questo caso Simple, che non fa altro che stampare i messaggi sulla console. Quindi alla fine abbiamo fatto un lungo giro per stampare poi i messaggi sulla console. Però se volessimo usarla anche nel nostro programma, ormai la libreria è caricata, quindi basta semplicemente, come c'è questo esempio nella documentazione, semplicemente ottenere la classe logger e poi chiamare il metodo info oppure warning oppure error per stampare un messaggio. È molto simile alla print line del system.input, del system.out. Ok. Detto ciò, come si usa un data source? Allora, il data source è appunto una classe che apre e gestisce un insieme di connessioni verso un database. Insieme di connessioni che sono chiaramente tutte verso lo stesso database. Quindi di che cosa avrà bisogno fondamentalmente? Beh, fondamentalmente avrà bisogno delle credenziali per poter accedere al database. Quindi la URL JDBC, l'username e la password li possiamo inserire nella URL oppure li possiamo settare con due chiamate separate. C'è le stesse informazioni di cui il connection manager, il driver manager, scusate, ha bisogno. C'è le informazioni per potersi collettere al database stesso. Fatto questo, questo data source rimane, a differenza di una connection, rimane permanente, quindi lo dobbiamo salvare da qualche parte, e poi lo potremo usare ogni volta che abbiamo bisogno di una connessione. Questa connessione non la chiediamo più al driver manager, ma la chiediamo al nostro data source che abbiamo appena creato. Questa connessione, in realtà, a noi sembra che sia un oggetto connection nuovo, in realtà è un oggetto connection di quelli che sono già stati creati inizialmente. Poi ci sono tutte le parametri di configurazione della libreria Icari che ci permettono di dire quante connessioni voglio che vengano aperte contemporaneamente, all'inizio, e se poi per caso il programma sta facendo molte query, magari ne apro di nuove, oppure le riduco se non le sto usando. Sono tutti parametri di configurazione, ma, diciamo così, a noi normalmente va bene la configurazione di default. E quando ho finito di fare la query, cosa faccio? Chiudo la connessione. Attenzione che il data source ridefinisce il significato di close, quindi quando io uso il connection pooling e faccio close della connessione, questa non viene davvero chiusa, ma viene semplicemente segnata come libera, restituita al pool delle connessioni libere, in modo che, alla prossima volta che qualcuno vuole una connessione, possa dare in prestito questa nuova connessione, che è già stata usata prima per qualche altro motivo, ma la connessione, l'operazione di apertura e chiusura della connessione, in realtà viene fatta una volta sola all'inizio. Quindi, vuol dire che nel nostro codice, anche se sappiamo che la connessione è una sola, quindi non viene aperta davvero e non viene chiusa davvero, l'istituzione connessione.close la dobbiamo mettere comunque, sempre, ok? Altrimenti cosa succede? Quindi, non spaventatevi, non è che se faccio connessione.close mi chiude una delle connessioni del pool, no, non la chiude davvero, il close non la chiude davvero, semplicemente la marca la segna come libera, come disponibile per essere prestata ad altri punti del programma. Cosa capita se mi dimentico il connection.close? Capita che ogni volta che ha fatto una getConnection, ovviamente acquisirò una connessione nuova. Non la restituisco mai, perché mi dimentico, e quindi la classe datasource vede che tutte le sue connessioni sono in prestito. Quando farò la getConnection nuovamente, quindi chiederò in prestito una connessione nuova, lui dice, guarda, io 10 ne avevo, 10 le ho date in prestito, tu sei l'undicesimo, non ti posso dare una connessione nuova, ma ti metto in attesa che una delle 10 precedenti ritorni libera, ritorni disponibile, perché la libreria presuppone magari che il programma abbia anche diverse operazioni che vanno avanti in parallelo, magari una operazione lunga, usa una connessione, poi quando finisce di usare questa connessione la possiamo dare a qualcun altro. Questa combinazione, però nei nostri programmi, è fatale, nel senso che se io ho tutte le connessioni fuori, perché mi sono dimenticato di fare la close, significa che quando farò la prossima getConnection il programma si blocca, in attesa che una delle prime 10 ritorni indietro, ma non ritornerà di sicuro indietro, perché mi sono dimenticato di restituirla. E quindi a un certo punto il programma si blocca, vedete che il programma non fa più niente, dice, ma cosa è successo? Si è bloccato. Si è bloccato sulla getConnection, perché mi sono dimenticato di restituire le connessioni vere. Quindi se vedete questo sintomo del programma che le prime cose le fa, poi si ferma a un certo punto senza motivo, ma senza errore, non va in crash. Si ferma lì, rimane in attesa. Ecco, il motivo potrebbe essere questo. Stiamo esaurendo le connessioni del pool, perché ci siamo dimenticati di restituirle. Lo dico così, ma sono sicuro che poi negli esercizi ci dimenticheremo e capiterà, ma almeno sappiamo riconoscere qual è il sintomo. Se io invece volessi realmente chiudere le connessioni, allora dovrò fare l'operazione di close, non sulla connessione, ma sull'oggetto data source, che chiude effettivamente, non la connessione, ma tutte le connessioni. Quante connessioni disponibili ci sono? Mi sembra che per default Icari ne apra 10, ma se no non fa di configurazione o con dei parametri di avvio si possono impostare. Il connection pool, quanto tempo del programma? Se mi stai chiedendo quanto tempo ci vuole per aprire le connessioni, inizialmente ci mette qualche centinaio di millisecondi. Poi da quel momento in avanti non introduce nessun ritardo il data source. Non introduce nessun tempo di elaborazione in più, se ho capito bene la domanda. Allora, vediamolo subito. Di fatto, nei nostri programmi, basterà andare a prendere la classe connectDB, dove usavamo la driver manager, e trasformarlo così come suggerito da questa slide creando un oggetto di tipo data source. Noi avevamo già il metodo getConnection che è chiamato dei nostri DAO. Abbiamo già la url.jdbc e quindi possiamo semplicemente andare a modificare qua dentro il nostro metodo getConnection in cui dovrò usare innanzitutto creare una data source e poi restituire una connessione del data source. Attenzione a non fare questa operazione che sto scrivendo adesso, poi la correggiamo. icari data source ok, icari data source sì uguale new icari data source dobbiamo evitare di fare questa operazione qui dentro la getConnection perché se facessimo così ogni volta che chiamo la getConnection viene creata una nuova data source la quale aprirebbe un pool di connessioni. Dobbiamo essere sicuri che la data source venga creata solamente la prima volta la prima volta che io chiamo getConnection quindi un modo per farlo è quello di avere una variabile statica private icari data source data source uguale null la inizializzo null ok, vabbè già in automatico è inizializzata null e quindi qua dentro dentro la getConnection vado a controllare se ds null allora la inizializzo altrimenti no altrimenti uso quella che c'è già quindi quando il programma parte quando di fatto questa è una variabile statica viene inizializzata null e quindi sto dicendo non ho un data source quando il mio programma chiamerà la getConnection la prima volta si troverà con data source uguale null magari siamo più specici si chiama disk.datasource uguale null ah no scusate non ci vuole il disk perché è una statica troverà che questa variabile è nulla e allora crea una nuova data source e la memorizza in questa variabile stessa però non devo più mettere non devo creare una nuova variabile ma devo usare la stessa altrimenti adesso poi dobbiamo completarlo con tutti i parametri altrimenti se questa data source esiste già allora non la devo creare nuovamente questo risponde anche alla domanda di Mario che mi dice ma quando è che vengono create queste connessioni ecco nel momento in cui creo la nuova data source questo lo posso fare o magari nel main se lo fossi fare all'inizio oppure la cosa più comoda mi sembra che la prima volta che faccio una get connection apro queste connessioni ok quindi è una scelta mia quando creare la connessione le connessioni vengono create quando si crea quando si istanzia l'oggetto data source io lo istanzio la prima volta che chiamo get connection ok dopodiché devo impostare a questo punto data source punto set andiamo a copiare cdbc url in cui gli passo la gdbc url di prima e poi se voglio posso impostare lo username che era root e una password che in questo caso magari abbiamo messo di nuovo root ecco fate attenzione è un errore che a volte si vede dovete scegliere l'usinmr password se lo volete passare qui oppure se lo volete passare qui non mettete entrambi o meglio se le mettete entrambi metteteli identici perché chiaramente quello che fa fede è l'ultimo che avete impostato ok quindi poi magari andate a modificare la password qua sopra non vi dimenticate di modificarla sotto e non funziona più dice ma non riesco più ad accedere eccetera ok quindi scegliete o li specificate qua username e password oppure li specificate sotto ma non entrambi io adesso metto un commento qua per ricordarmi che si può fare ma avendolo già fatto nella url è inutile rifarlo una seconda volta mentre invece chiaramente il nome del database è importante che ci sia nella url perché è l'unico punto in cui lo posso impostare quindi se di fatto sto solo facendo un'operazione una volta sola la prima volta creo questa data source e la imposto poi le volte le volte successive o tutte le volte quindi compresa la prima volta qui non c'è un else posso sostituirti la connessione prendendola non più dal driver manager ma il data source che a questo punto non ha più bisogno di nessun parametro perché la data source sa già qual è la connessione che deve restituire quindi la SQL exception come vedete avviene qui perché qui è quando effettivamente parlo col database prima ho solamente preimpostato delle cose quindi vedete che la new del legal data source non mi genera un'eccezione ma l'eccezione viene generata qua la prima volta che apre la connessione basta essenzialmente con questa modifica quindi abbiamo importato la libreria Icari abbiamo non ci serve più il driver manager quindi lo possiamo anche togliere e abbiamo trasformato il nostro programma in un programma che usa una connection pooling anziché usare connessioni singole aperte ogni volta questo è il motivo per cui all'inizio vi ho insistito dicendo ma la connessione facciamola in una classe separata perché a questo punto toccando questa classe non dobbiamo più toccare nulla nel programma perché abbiamo ottimizzato l'apertura delle connessioni e indipendentemente da come usiamo queste connessioni all'interno del DAO vedete che nel DAO io chiamo il mio metodo getConnection che a questo punto otterrà la connessione del data source e connessi un punto close che mi sono ricordato di fare a suo tempo restituirà quella connessione che avevo preso in prestito al data source stesso dunque Mario mi chiede se mi conviene istanziare il data source dentro il met qua come variabile statica dentro il metodo ma è abbastanza indifferente perché è una classe con un metodo solo quindi qui dici istanziare qua qua l'ho dichiarato ok fare la new allora sì se tu vorresti fare la new direttamente alla riga 13 è possibile però visto che questo oggetto non si inizializza con i parametri del costruttore vedete che il costruttore non è su un parametro ma si inizializza impostando una serie di proprietà successivamente alla creazione mi piace poco avere un oggetto che viene inizializzato ma non ha ancora i parametri impostati giusti quindi preferisco vedere questo codice vicino così sono sicuro che l'oggetto o non c'è o se c'è l'ho inizializzato completamente se invece avessi un costruttore che fa tutto lo potrei fare direttamente nel costruttore chiudere l'icari data source se decidessimo che il nostro programma da un certo momento in avanti non ci servirà più usare il database allora a questo punto potremmo fare la close ma questo avviene normalmente in automatico quando chiudiamo il programma quindi di fatto quasi sempre non abbiamo bisogno di chiuderlo potremmo farlo se andassimo intercettare il bottone di chiusura dell'applicazione dicendo ok prima di chiudere l'applicazione chiudo il data source ma è se vogliamo uno scrupolo in più ecco ma non è non è particolarmente tenete presente che se la data source tiene le connessioni aperte ma queste connessioni non stanno lavorando in realtà non sta dando praticamente nessun carico sul database allora no per rispondere alla domanda di Corrin no nel senso che il data source l'ho creato una volta sola e lui gestisce un insieme di connessioni quando lui finisce queste connessioni data source non torna a null rimane lui e rimane in attesa che si liberino le connessioni perché? ma perché io non voglio creare connessioni all'infinito nel senso che se finiscono le connessioni disponibili crea un altro data source che apra altre connessioni perché questo molto spesso è sintomo di un baco di un problema che sto usando connessioni senza chiuderle cioè il numero di connessioni alla fine utilizzate sarà costante dipende da cosa fa il programma se queste aumentano troppo vuol dire che mi sono dimenticato di restituirle o di chiuderle chiara il corpo del try è semplicemente non ho toccato questo il numero che ho modificato al posto di driver manager ho scritto data source perché a questo punto il metodo get connection sarà il metodo get connection di data source e non ho modificato null'altro allora tante belle parole chissà se funziona ancora proviamo a lanciarlo e proviamo una parola di otto lettere o di tante lettere una parola lunga prima ma semplice se funziona allora innanzitutto quello che vediamo uno che funziona nel senso che qualcosa fa e non so proviamo una più facile il gatto che sicuramente ha degli anagrammi e vediamo che ci sono dei messaggi che sono comparsi sotto adesso questo messaggio qui non so perché non dovrebbe comparire ma fa lo stesso che è il logger che viene inizializzato da 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 Icari per visualizzare i messaggi di errore quindi troviamo in più dei messaggi in rosso che sono quei messaggi di avvio del logger stesso adesso devo vedere cosa c'è che è questa configurazione perché normalmente questo errore non dovrebbe comparire invece dovrebbe scrivermi ho aperto Icari initializing mi sto inizializzando e ho aperto delle connessioni ok basta nel senso che con questa modifica e quindi diciamo da adesso in avanti useremo questa versione del connect db io ho risolto il problema delle connessioni eccessive ok poi in realtà ci accorgeremo che nel nostro tipo di programmi non avremo veramente bisogno di tante connessioni visto che il nostro programma è sequenziale e quindi è vero che farò tante query ma le faccio una per volta di query e quindi quando finisco una query poi chiudo la connessione e poi ne riapro un'altra ma alla fine ne avrò sempre al massimo una in uso correntemente quindi a noi il fatto che il pool abbia tante connessioni aperte non ci interessa basterebbe una sola noi ne usiamo una sola noi usiamo il connection pool non tanto per avere tante connessioni e quindi poter fare tante query in parallelo ma per avere il meccanismo di prestito della connessione che mi evita di fare la riapertura ok il connection pool è pensato per programmi più complicati che abbiano anche operazioni in parallelo noi operazioni in parallelo non ne abbiamo e quindi quella parte di funzionalità di fatto non ci serve quindi quando prima mi chiedevate ma quante connessioni apre in realtà la risposta è ne apre un certo numero mi sembra una decina ma a noi ne basta una sola perché ne usiamo solamente una per volta ok ok questa è una cosa come dicevo prima relativamente facile da fare sicuramente da fare perché basta andare a modificare tre righe e automaticamente il nostro programma funziona ricordatevi il DAO deve comunque il DAO non si accorge di niente ok il nostro DAO chiama sempre la get connection e chiama sempre la close sulla connessione sempre non è cambiato nulla il DAO non l'ho toccato io ho toccato solamente la connect se voi modificate la connect in questo modo i nostri programmi automaticamente se voi volete provare a fare un confronto magari col programma degli anagrammi in una e l'altra versione quanto tempo ci mette a parità di risultato ovviamente perché le query sono le stesse ecco nel secondo caso il tempo di esecuzione sta tutto nel fare le query nel primo caso invece stava praticamente tutto nell'aprire le connessioni il che poi quando facevamo tante connessioni a volte andava in crisi anche il database perché aprire milioni di operazioni in pochi secondi a volte non ce la faceva starci dietro anche se il programma era corretto a un certo punto dava errore di connessione ok questo è il primo tema che volevo citare stamattina a proposito di database relativamente semplice il secondo tema sempre sulle stesse slide se andiamo indietro si parlava di ORM Object Relational Mapping che è un altro tema che avevamo lasciato un pochino indietro perché ma perché così nel frattempo abbiamo cominciato a fare qualche programmino un pochino più diciamo solido un pochino più spesso e ci permetteva di adesso ci permette di apprezzare meglio quello che stiamo facendo ok all'inizio quando abbiamo appena apprezzato il JDBC sarebbe stato troppo teorico troppo distaccato ok non avremmo avuto modo di apprezzarlo in concreto allora di che cosa si tratta di Object Relational Mapping allora innanzitutto noi abbiamo due mondi il mondo ha oggetti che è quello di Java e il mondo relazionale che è quello di SQL e noi abbiamo deciso di farci del male perché li vogliamo far parlare li dobbiamo far parlare e quindi in qualche modo dobbiamo conciliare due visioni diverse delle stesse informazioni le informazioni che sono il database sono organizzate in tabelle secondo le modalità entità relazioni le forme normali tutte queste belle cose che vi hanno insegnato l'anno scorso nel corso di base di dati che però hanno una logica molto diversa rispetto agli oggetti Java in Java ragioniamo in collection ragioniamo in riferimenti quindi un oggetto che punta una lista di altri oggetti che invece c'è l'opposto rispetto a quanto fai in database relazionale in cui dai le definizioni astratte tra i concetti poi ci pensa il database a navigare le relazioni ok però questa operazione di ORM mapping dobbiamo inventarci delle regole per mappare all'interno degli oggetti Java quelli che sono i dati presenti nel database noi lo faremo a mano ok nel senso che ci diamo delle regole che in parte sono quelle che abbiamo già intuitivamente applicato cioè noi abbiamo detto ma per poter lavorare con i dati presenti in un database innanzitutto creiamo degli oggetti dei semplici Java beings dei semplici classi Java che rappresentino l'informazione nel database e diamoci le linee guida per capire come creare questi oggetti e quindi la regola semplice che ci siamo dati è per ogni entità principale del database quindi se ho un database che contiene le parole avrò una classe parola se ho un database che contiene vari tipi che ne so i corsi e gli studenti allora in Java farò una classe corso una classe studente quindi per ciascuna tabella del database creo una classe Java questo è quello che abbiamo già fatto stiamo solo sistematizzando le regole per darci un modo di procedere un pochino più ordinato quindi ogni tabella del database di cui ho bisogno qui non è detto che le debba modellare tutte ogni tabella del database di cui ho bisogno corrisponderà a una classe Java nel mio modello nel mio model tranne le classi che sono classi di pure relazioni sapete che quando io faccio il modello entità relazioni e una relazione N a M molti a molti allora questa relazione dovrà essere rappresentata da una classe che contiene le chiavi due chiavi esterne che sono le chiavi primarie delle due tabelle che collegano questo non ve lo devo insegnare io ecco questo tipo di tabelle avrebbe poco senso memorizzarle in Java e quindi lo vediamo poi dopo quindi per questo dicevo facciamo una classe per ogni tabella che contenga un'entità del database non una relazione le relazioni vediamo abbiamo altre regole ok allora le tabelle del database vado a vedere quali tabelle contengono entità e per ciascuna di queste faccio una classe Java corrispondente cerco di essere coerente con i nomi normalmente la classe Java tendo a usarla alla forma singolare quindi se ho una tabella nel database studenti io farò la classe Java studente al singolare perché rappresenta una singola riga pensiamo che l'oggetto la classe Java rappresenta una singola riga della tabella del database quindi conviene sempre usarla nella forma singolare perché così la forma plurale ce la teniamo nel nostro programma per gestire le liste di questi oggetti non la riga singola quindi cerchiamo di dare un nome alla classe Java che sia uguale al nome della tabella del database ma nella forma singolare nel caso in cui la tabella abbia il plurale e poi questa classe che cosa deve avere deve avere tante proprietà private una per ciascuna colonna nella tabella quindi se la classe corso ha la tabella che sono codice denominazione semestre numero di crediti allora io avrò nella mia classe Java avrò tante proprietà che sono corrispondono a codice nome semestre e crediti ovviamente anche lì dovrò mi converrà diciamo così chiamare le colonne in una sintassi simile a Java quindi ad esempio se la colonna si chiama numero dati in SQL io in Java la scriverò con numero dati in camel case quindi inizia con lettera minuscola non hai trattini eccetera eccetera tanto per avvicinarmi al mondo Java poi non capita niente se lo facessi diversamente ma così rispettiamo le convenzioni di programmazione del linguaggio e facciamo attenzione al tipo di date nel senso che se nel database quel dato era una stringa allora la devo rappresentare come stringa allora in SQL stringa non esiste esiste var char esiste char eccetera eccetera con gli altri tipi di dato che sono riconducibili dal tipo stringa in Java se ho una tabella una colonna di tipo integer allora la potrò rappresentare come un int in Java e così via quindi dovrò definire il nome prendendolo dal nome della colonna e il tipo di questo attributo della classe prendendolo chiaramente dal tipo della colonna nulla di di spettacolare tranne e per questo momento non pensiamo alle colonne che vengono usate solamente come chiavi esterne perché ma perché le relazioni le vogliamo ci dobbiamo pensare dopo le relazioni per ora pensiamo all'entità ok sulle relazioni dobbiamo fare un pelino di ragionamento in più che è la parte diciamo così complicata di questo di questo passaggio poi questa classe gli diamo un costruttore questo costruttore normalmente riceve tutti i campi quindi se avremo la classe studente o la classe studente avrà new new studente in cui passo tutti i dati matricola cognome nome data di nascita o quello che è insomma avremo un costruttore che accetta tanti parametri quanti sono le colonne della tabella a cui corrisponde tranne di nuovo i campi che corrispondono alle chiavi esterne ma questo perché adesso vabbè finisco questi altri due punti poi ragioniamo sulle chiavi esterne poi ovviamente come tutti gli oggetti java dovrò aggiungere dei metodi get set ma questo me lo faccio fare da eclipse e importante devo definire la condizione di uguaglianza di questi oggetti ovviamente questo oggetto avrà bisogno di un equals e di un hash code e per far sì che le mie elaborazioni siano coerenti cioè i controlli che fa java i controlli che fa sql siano coerenti è necessario che la nozione di uguaglianza tra due oggetti in java e la nozione di uguaglianza tra due record tra due righe in sql siano la stessa cioè che se sql dice che due cose sono uguali anche java lo dica e viceversa allora per far questo qual è la nozione di uguaglianza tra oggetti in sql la chiave primaria no? io in sql quello che conta in un'itabella è il valore della chiave primaria allora anche in java dovrò far sì che quando creo un oggetto di un certo tipo la nozione di uguaglianza e quindi i campi su cui equals e hashcode lavorano siano gli stessi della chiave primaria della tabella quindi se una tabella studenti con la chiave primaria è la matricola allora nella classe java metterò l'equals sulla matricola e l'hashcode di conseguenza se nella tabella la chiave primaria fosse nome e cognome allora dovrò mettere l'equals e l'hashcode su nome e cognome in modo che siano coerenti altrimenti rischio di diciamo così di avere risultati diversi a seconda che io il calcolo lo faccia fare il database o un certo filtro un certo controllo lo faccia fare il database oppure lo faccia direttamente nel codice java e basta essenzialmente queste sono le regole che in realtà abbiamo già usato empiricamente senza diciamo così vedere elencate nel costruire le nostre classi del modello sul discorso delle chiavi esterne c'è un pochino di complicazione cioè immaginiamo ad esempio la nostra classe studente ok immaginiamo lui avrà il nome cognome eccetera potrebbe avere un campo iscritto iscritto a un certo corso di laurea allora nel database cosa succede? succede che io avrò poi una tabella corsi di laurea fatemelo abbreviare con cdl che avrà un campo id e un campo nome ad esempio quindi l'id sarà 33 nome ingegnere gestionale poi potrò avere altre informazioni la classe di laurea l'anno in cui è stato costituito insomma tutta una serie di informazioni sul corso di laurea stesso non sul singolo insegnamento sul corso di laurea in generale allora questa è una relazione è chiaramente una relazione da 1n tra studente e corso di laurea nel senso che uno studente può essere scritto solo un corso di laurea uno studente può essere scritto solo un corso di laurea ma un corso di laurea può contenere più studenti a livello di tabella database questa qua che cos'è? è una chiave esterna la rappresentiamo come chiave esterna in cui memorizziamo per sapere dove è scritto l'id del cdl sql è basato sulla nozione di uguaglianza tra identificatori quindi se questo id è un numero nel database anche il campo iscritto al corso di laurea sarà un numero e questo numero dovremmo impostarlo uguale al numero della chiave primaria dell'altra parte quindi così ci facciamo le join sopra e diciamo ok tutti gli studenti join il corso di laurea dove iscritto uguale corso di laurea punto id l'abbiamo sempre fatto questo se vogliamo imporre un vincolo di integrità referenziale definiamo anche la chiave esterna la foreign key questo campo c'è una foreign key e quindi debba mapparsi su quel campo questo è normale prassi nel mondo sql però cosa succede quando io mi faccio la mia classe java studente e la voglio costruire un nuovo oggetto e gli dovrò passare qualche cosa che devo passare i vari parametri che saranno la matricola il cognome e il nome e poi c'è questo campo iscritto se io copiassi scimmiottassi ciò che fa sql ci metterei 33 cioè il valore numerico corrispondente all'id del corso di laurea dopodiché va bene non c'è nulla nessuno che me lo vieta ma poi con quel 33 nel mio codice java cosa me ne faccio tutte le volte che voglio passare da uno studente al suo corso di laurea avrò un 33 e dovrò andare a cercare da qualche parte fare un'altra query andare a vedere una collection in cui devo trovare l'oggetto che ha come id il 33 e quindi ogni volta devo fare delle ricerche sarebbe molto meglio che cosa avere l'oggetto avere qua un oggetto java che è cdl gestionale cioè un riferimento a un oggetto questo campo iscritto anziché crearlo di tipo int come è nel database lo creo di tipo corso di laurea perché comunque avrò un oggetto java che si chiamerà cdl anche lui come classe e quindi quando un campo di una tabella è una chiave esterna rispetto a un'altra tabella la chiave primaria di un'altra tabella in java noi avremo due oggetti che corrispondono alle due tabelle questo campo chiave esterna sarebbe più comodo che fosse direttamente un riferimento all'oggetto corrispondente di quell'altra tabella ragioniamo per oggetti siamo nel mondo java stiamo cercando di fare questo mapping in modo che sia poi naturale dallo studente faccio studente punto iscritto e mi dà direttamente l'oggetto che descrive il corso di laurea a cui questo studente è iscritto ok quindi adesso lo vediamo anche nelle serie successive conviene in questo caso quando ho delle relazioni le proprietà che descrivono queste relazioni vengono tipizzate abbiano come tipo di dato l'oggetto che descrive la tabella a cui la relazione punta fin qui è facile però questo cdl è gestionale chi me lo dà? cioè questo oggetto qua da dove arriva? vuol dire che io per poter creare un oggetto di tipo studente devo aver già creato tutti gli oggetti di tipo corso di laurea che mi possono servire e in particolare quello gestionale che mi serve adesso quindi o li ho caricati già prima e allora nel momento in cui faccio la query vado a prendere quell'oggetto specifico e lo collego a questo riferimento oppure non l'ho fatto prima e allora quando creo uno studente subito dovrò fare un'altra sottoquery per ottenere le informazioni del corso di laurea ecco questa parte qua è una parte noiosa macchinosa in cui per poter creare un oggetto di un certo tipo devo aver già prima creato un oggetto di un altro tipo ecco però tra l'altro la cosa si complica perché poi se quest'altro oggetto a sua volta fa riferimento a un altro ancora a sua volta dovrò avere disponibile l'altro e se per caso torno indietro al primo ho una dipendenza circolare che non è facile da risolvere allora per questo motivo si usa di solito un approccio lazy come scritto qua un approccio pigro cioè io nell'oggetto creo subito le informazioni che ho comode se poi questo oggetto fa riferimento ad altri oggetti vabbè questi riferimenti li posso anche completare in un secondo momento sono pigro non lo faccio tutto subito questo è il motivo per cui le relazioni le trattiamo in un modo leggermente diverso non sentiamoci obbligati a popolare subito tutte le relazioni di chiave esterne di tutti gli oggetti che abbiamo perché altrimenti perdiamo veramente tantissimo codice tantissimo tempo di tempo di sviluppo sto intendendo non mi frega niente il tempo di esecuzione queste sono operazioni semplici molto tempo di sviluppo per creare tutti i dati che poi magari ci accorgiamo che non ci servono allora quindi la complicazione avviene non tanto nel creare le classi ma come abbiamo cominciato a intuire nel creare le relazioni allora quali sono le regole che ci possiamo dare per rappresentare delle relazioni o delle chiavi esterne queste relazioni in java sono nel modello oggetti sono nient'altro che degli attributi di tipo oggetto quindi nella nostra classe studente noi avremo in java classe studente noi avremo private int matricola avremo string nome e questi sono dati primitivi e poi avremo corso di laurea iscritto continuando l'esempio di prima che in questo caso è un riferimento a un oggetto di tipo corso di laurea quindi dobbiamo identificare quali sono le relazioni che ci interessano che vogliamo che siano facilmente navigabili cioè navigabili vuol dire passare da un oggetto di tipo studente a un oggetto di tipo corso di laurea corrispondente a quello studente lì e in questi definiamo degli attributi in più nella classe quindi magari nella nostra tabella ho tante chiavi esterne perché quando definisco il modello relazionale chiaramente mi devo esplicitare tutte le relazioni poi però magari nel mio codice me ne servono solamente alcune allora visto che gestire queste nel codice java è abbastanza pesante perché non c'è la join che mette insieme i dati me lo devo fare a mano allora chirurgicamente vado solamente a selezionare quelle che che so che mi servono e che mi interessano queste relazioni possono essere dichiarate poi magari in una prima fase inizializzo null perché dico vabbè leggo i studenti però leggo i studenti poi dopo quando leggero i corsi di laurea farò i collegamenti quindi sono attributi che spesso sono inizializzati in un secondo momento e non nel costruttore però questo entriamo nel grosso dipende cioè dipende dai casi che cosa voglio fare però la regola che cerchiamo di darci generalmente è se sono dati semplici li rappresento come oggetti primitivi se sono relazioni esterne li rappresento con oggetti che con riferimenti che puntano ad altri oggetti del modello nel mio modello e quindi quali sono i casi che si possono verificare e possono verificarsi dei casi delle relazioni la cui cardinalità valga 1 quindi 1 1 oppure 1 n in questo caso è facile perché basta che come abbiamo fatto nell'esempio dello studente è una relazione 1 n o lo studente può avere un solo corso di laurea e allora basta che io aggiunga un attributo alla classe quindi vediamo un altro esempio che c'è qua sulla slide pensiamo di avere una tabella qui c'è il database SQL nella parte sopra e Java nella parte sotto ok in SQL abbiamo una tabella studente che ha una chiave primaria matricola e vabbè altri campi avrà ovviamente e poi abbiamo un'altra tabella persona che invece magari supponiamo che sia l'anagrafe di tutte le persone ok che contiene come chiave primaria il codice fiscale che noi tutti abbiamo poi c'è diciamo che lo studente attraverso questa chiave esterna persona punta al codice fiscale di una persona quindi diciamo abbiamo tutte le persone di Torino e gli studenti allora nel campo studente c'è il riferimento al codice fiscale che mi permette di andare a prendere quella persona all'interno dell'intero database di tutte le persone dell'anagrafe come l'abbiamo detto allora in SQL cosa facciamo se questo codice fiscale è una stringa questa chiave esterna sarà anch'essa una stringa che dovrà contenere il codice fiscale del corrispondente della persona non c'è un codice diverso è semplicemente il valore della chiave esterna ok quindi qua il codice fiscale mio sarà CRNFLV e va avanti così e qui anche ci sarà dentro la tabella studente questo codice eccetera ok e SQL funziona così poi qua ho ipotizzato che ci possa essere anche una relazione 1-1 inversa in questo caso una relazione 1-1 opzionale nel senso che in questo campo ci possono esistere persone che sono studenti o persone che non sono studenti allora se una persona è studente io posso qua indicare la sua matricola 1-2-3 7-7-7 che sarà uguale alla matricola dello studente oppure nel caso in cui questa persona non sia uno studente avremo un bel null non il null di Java ma il null di SQL vabbè perché è una relazione opzionale può esserci può non esserci quando io traduco queste cose in Java cosa faccio seguiamo le regole tabella studente classe studente quindi faccio una classe per ogni entità tabella persona classe persona attributi di studente attributi di studente saranno vabbè ovviamente ci sarà un private qui non ho scritto private int matricola ovvio qui non ho scritto perché volevo focalizzare sulle relazioni e poi ci sarà per rappresentare questa chiave questo campo che è un campo di relazione una chiave esterna io potrei scegliere due modi come dicevo copiare ciò che fa le SQL e quindi mettere una stringa che conterrà il codice fiscale oppure fare il passo in avanti ragioniamo oggetti e mettiamo un riferimento all'oggetto persona corrispondente che sarà un riferimento all'oggetto persona java l'oggetto java che ha ovviamente quel codice fiscale lì però a questo punto se mi serve io ho uno studente s farò semplicemente un get persona e mi dà il riferimento all'altro oggetto persona che descrive tutti quei campi quindi se voglio conoscere nel codice fiscale poi farò get persona appunto get codice fiscale e non è un problema cioè mentre in SQL le relazioni si navigano facendo delle join in java le relazioni si navigano attraverso degli attributi attributi che puntano ad altri oggetti quindi c'è questa discrepanza abbastanza forte proprio di modello mentale che ci complica ovviamente il codice allora per facilitarci il lavoro se noi avessimo il codice fiscale e uno studente e voglio conoscere che ne so supponiamo che dentro persona ci sia un campo residenza e io avessi solamente il codice fiscale di questa persona mi devo andare a prendere tutte le persone fare una scansione una ricerca nella collection di tutte le persone oppure una quira aggiuntiva che mi dia quella persona lì e ottenga la residenza anche se l'ho già tutta lette in java avendo il codice fiscale non mi permette immediatamente di conoscere qual è la persona mentre invece avendo già il riferimento dall'oggetto studente arrivo immediatamente all'oggetto persona e se mi servisse il codice fiscale lo vado a prendere da persona non è un problema quindi mi da dei vantaggi l'unico svantaggio che me lo dai in fase di creazione è che quando creo alla classe studente devo scoprire qual è il riferimento all'oggetto di tipo persona a cui devo puntare quindi questa è la complicazione a cui bisogna fare attenzione e questo è il motivo per cui ho detto solo per le relazioni che sappiamo che ci servono quindi nel database qui ci sono due relazioni una avanti una indietro poi in java noi siamo liberi di dire ma guarda questa relazione qua da persona studente non mi serve e allora non la modello non rappresento quell'attributo in questo programma non mi serve non sono obbligato a fare tutto perché effettivamente si complica le cose si complicano ovviamente ancora di più quando abbiamo delle reazioni con cardinità n quindi ad esempio lo studente è iscritto ai corsi che era l'esempio che avevamo nei laboratori quindi avevamo la classe studente la classe corsi e in mezzo c'è la classe iscrizione che mi dava la relazione allora in java come lo rappresento questo? come faccio a rappresentare che uno studente può essere iscritto a più corsi? allora vorrà dire che io dovrò avere un attributo che può contenere più valori quindi una lista o meglio ancora un set io dico meglio un set perché il mondo relazionale è un mondo non ordinato non c'è un ordine definito nelle righe della tabella quindi un set rappresenta più da vicino quello che è la natura della risposta alla domanda quali sono i corsi in cui sono iscritto se fate una select vi dà un insieme di riga non un elenco di righe non una lista di righe però in java tante volte è più comodo avere una lista perché poi la puoi iterare puoi andare a pescare un elemento per volta mentre in un set non si può andare a leggere un elemento dato il suo valore quindi tante volte si usa una lista anche se concettualmente questo sarebbe un insieme e l'ordine della lista è un ordine accidentale è venuto così ma poteva venire diversamente quindi anche qua faremo dei set o delle liste che usano dei riferimenti a degli oggetti e ovviamente visto che ho una lista dovrò avere dei metodi per cercare aggiungere iterare negli elementi di questa lista quindi vediamo una relazione del tipo 1n una relazione che da un lato ha cardinalità 1 e dall'altro lato cardinalità n ad esempio studente e città studente e residente in quella città allora chiaramente dal lato studente io ho l'informazione quindi se a livello di entità relazioni noi avremo studente città e poi ci disegniamo una relazione che è residenza e diciamo che questa relazione a cardinalità uno studente può stare in una città sola e una città invece può avere molti studenti e ce la caviamo così no? semplicemente decidiamo questa relazione poi quando questa relazione la mappiamo all'interno di classi quindi facciamo la progettazione logica ci accorgiamo che nella relazione 1n si in SQL si rappresenta semplicemente attraverso una chiave esterna dal lato 1 messa in una tabella lato molteplicità pari a 1 come vedete nella tabella città non c'è nulla che faccia riferimento studente non serve perché se io da una città voglio conoscere quali sono gli studenti residenti in quella città farò una join tra queste due tabelle e in questa join imparò la condizione di join tra questa chiave esterna e questa chiave primaria però dentro la tabella città è un'informazione ridondante inutile non la mettiamo ok in Java non abbiamo questo lusso di poter dire beh poi se mi serve tornare indietro dalla città lo studente faccio una join e mi ritrovo gli studenti quindi mentre per passare da studente a città ho una relazione con cardinalità destinazione pari a 1 quindi mi basta semplicemente un campo città di residenza che sia un riferimento a un oggetto di tipo città se volessi dal programma Java tornare indietro facilmente cioè dalla città avere l'elenco degli studenti che ci stanno allora mi servirà un campo che ne so ho chiamato qua studenti residenti che è un attributo di città che sia un campo di tipo collection una lista o un set prima dicevamo una lista o set qui ho messo collection in generale perché poi decideremo di caso in caso quale tipo di collection ci serve che punta a tanti oggetti di tipo studente questo attributo fa parte della relazione nel modello relazionale ovviamente perché questa relazione è 1n tra due entità arriva non tanto dalla traduzione della tabella SQL in Java perché in questa tabella non c'è quel campo ma arriva dalla comprensione della relazione che legava studenti e città e di come mappiamo questa relazione quindi noi non stiamo facendo il mapping delle tabelle stiamo facendo il mapping del modello entità relazioni in un certo senso in Java dobbiamo andare a interpretare quell'attributo lì a cosa serve e quindi come lo rappresento capite che mantenere aggiornato anche un attributo di questo genere è abbastanza pesante sia caricarlo la prima volta perché creo una città devo fare un acquiri di tutti gli studenti devo avere gli oggetti tipo studenti già creati se no me li devo creare in quel momento e poi devo sperare che la relazione non cambi mai perché se aggiungo uno studente e lo tolgo devo andare a modificare sia l'attributo l'altro studente sia l'attributo l'altro città e quindi la cosa comincia a diventare un po' di pesante gestione però il prezzo che dobbiamo pagare è perché in un mondo oggetti le relazioni sono rappresentate attraverso catene di attributi mentre invece nel mondo relazionale sono rappresentate mediante ugualianza di valori sono due mondi molto diversi se le cose si complicano ancora ovviamente se avessimo una relazione tipo nm molti a molti dove in sql sappiamo che questa si deve mappare attraverso una tabella aggiuntiva tabella che non ha senso di esistere non è una vera entità ma semplicemente mi serve per mappare le relazioni tipicamente avrà tutte le chiavi esterne corrispondenti e di article la chiave esterna di qua e di create la chiave esterna di là e poi potrà avere eventualmente una chiave privata una chiave primaria scusate oppure la chiave primaria è la concatenazione l'unione delle chiavi esterne dei varie di tutte le chiavi esterne della relazione e quindi in SQL siamo abituati a fare così una relazione molti a molti richiede una tabella in più per poter essere rappresentata e questa tabella in java scompare non esiste in java noi all'interno della classe articolo metteremo la collection che mi permette di arrivare da articolo a creatore quindi navigare la relazione da sinistra verso destra dentro la classe creatore metteremo invece la collection che mi permette di navigare la relazione da destra verso sinistra e quindi è all'interno di queste due collection che vanno a finire le informazioni che erano in questa tabella a parte che invece non viene mai rappresentata in java non serve sarebbe una complicazione inutile vado già direttamente a rappresentare chi ci sta dal lato opposto dall'altro lato di questa relazione questo in teoria è facile ci siamo dati queste regolette quando ho una relazione se è semplice metto un attributo di tipo oggetto se è una relazione molteplice quindi è una molteplicità pari a n dall'altro lato ci metterò una collection di oggetti di quel genere la complicazione arriva quando questi oggetti li dobbiamo poi creare ovviamente creare e mantenere aggiornati quindi noi la scelta che dobbiamo fare o almeno diciamo che io vi ho suggerito è quella di usare quando ho delle chiavi esterne cercare di usare il più possibile degli oggetti proviamo a ragionare su cosa conviene perché poi tutte le regole ovviamente vanno ragionate perché magari nel caso specifico non ha senso seguire diciamo così beceramente la regola ma ha senso ragionare si accorge che magari conviene fare una cosa diversa vediamo l'esempio prima del studente con la città di residenza io posso decidere nella classe studente di memorizzare la città di residenza semplicemente col valore con l'id sql con la chiave primaria di quella tabella questo non mi costa niente nel creare l'oggetto perché quel dato lì torino è 3606 quel dato è già nella tabella del database e quindi ce l'ho pronto basta metterlo dalla query lo metto nell'oggetto java così come metto il nome così come metto la matricola quindi è facilissimo da ottenere però ogni volta che poi da quel numerino lì 3710 non so cosa ho detto è ipotetico di torino di torino devo trovare il nome della città e allora dovrò chiedere al dao senti ma io ho solamente il numero della città mi dici qual è il nome e quindi ogni volta che devo conoscere un campo del dato correlato dovrò passare dal dao e quindi dovrò fare più query perché i dati li ottengo solamente a pezzettini l'alternativa è invece quella che abbiamo suggerito prima come suggerimento non come obbligo sempre di rappresentarlo non il numero della città non l'id non la chiave primaria della città ma l'oggetto città stesso quindi ti metto un riferimento a un oggetto reale che corrisponde alla descrizione della città torino quindi a questo punto quando voglio avere le informazioni dallo studente le informazioni della città in cui vive in cui è residente ho già tutto ce l'ho già tutto ho già tutto disponibile e quindi lo posso leggere subito quando mi serve ovviamente il prezzo lo pago quando creo l'oggetto studente perché dovrò creare anche l'oggetto città contemporaneamente e quindi farò più query oppure quando creo nel DAO avrei solamente bisogno dello studente in realtà dovrò fare una join in cui allo studente aggancio tutte le altre tabelle che sono in relazione con questo in modo da avere nel momento di creare lo studente avere anche la possibilità di creare tutti gli oggetti collegati ad esso quindi mi complico la vita sicuramente nel creare l'oggetto per averla più semplice poi nel navigare l'oggetto stesso mi complico la vita per creare subito tutti i dati che poi magari dopo non mi servono quindi è sempre un compromesso tra ciò che sarebbe bello fare avere tutto pulito tutti i dati in ordine tutti in modello diciamo così con un buon modello oggetti semplicemente con le relazioni ho fatto un grosso lavorone poi in realtà la metà di quelle relazioni non la userò mai nel mio programma e quindi ho fatto lavoro inutile quindi io il mio suggerimento è di andare avanti nel caso pratico in modo incrementale se c'è una relazione magari non mi serve allora per ora non la implemento se poi mi servirà la aggiungerò dopo o magari mi serve in modo molto raro e allora va bene ma chi se frega mettiamoci il valore e poi dovrò fare una volta un acquiri in più per ottenere il dato e vabbè è un costo che devo pagare se invece mi accorgo che questa relazione tra studenti e città la uso tantissimo allora vale la pena effettivamente di fare lo sforzo in più e salvarla in un modo comodo per poter essere navigata per poter essere usata quindi sono scale diverse di compromessi sta a noi scegliere quale è la soluzione che di caso in caso ci sembra ci sembra più efficace in realtà esiste anche una terza via che è quella di dire io faccio finta di conoscere questa città di residenza però in realtà non la non la leggo quando creo l'oggetto la lascio nulla e mi salvo da qualche parte l'id della chiave primaria la prima volta che ne avrò bisogno allora farò la query nel dao per dire ok dammi qual è la città ma poi subito dopo la vado a questo punto a memorizzare nel mio campo e dalla seconda volta in poi non avrò più bisogno di fare quella query quindi complica un pochino la logica ritardando la cosa si chiama lazy sono pigro non lo faccio subito lo ritardo lo farò solo quando ne avrò davvero bisogno aggiungo io se ne avrò davvero bisogno perché poi può darsi che in realtà quell'attributo lì non mi servirà mai e allora magari la seconda query non la farò mai e se la farò la farò il più tardi possibile ovviamente non è l'utente che il programmatore che va a vedere se questo è null oppure no farò un get città residenza il quale internamente va a vedere se città residenza è null farà query lo mette a posto altrimenti invece ritorna il valore che ha già che ha già calcolato ovviamente il caricamento lazy è nascosto dietro la logica dei get resetter allora noi queste queste cose le facciamo a mano perché tutto sommato noi non abbiamo nei nostri programmi ci serve soprattutto leggere dati e analizzarli e non abbiamo dei programmi che vanno a fare modifiche continuamente al database ci sono delle librerie che già fanno questo lavoro in automatico esistono delle librerie java però sono abbastanza complesse da usare che di fatto analizzano un database e creano già in automatico tutti gli oggetti che vi servono seguendo delle regole che sono un pochino più complicate di queste qua che ci siamo dati empiricamente e e già automaticamente definiscono dei metodi per caricare le relazioni in modo eager quindi anticipato oppure in modo lesi quindi posticipato quindi di fatto se uno dovesse scrivere un programma che lavora pesantemente con un database gli conviene usare uno di questi librerie di ORM che fanno questo lavoro per noi addirittura di fatto fanno le query senza neppure chiedercelo fanno in automatico quando io accedo a un attributo come potrebbe essere attributo città di residenza in automatico fanno la query prendono il dato lo popolano e io non vedo nulla di fatto mi trovo già gli oggetti già preparati essenzialmente però chiaramente è un livello in più una complessità in più in cui uno deve imparare non tanto a lavorare col database ma a lavorare col livello di ORM che ha tutta una serie di meccanismi di funzionamento suoi per quello che facciamo noi non è necessario quindi ve lo do solo come puntatore se un domani dovreste trovarvi a lavorare con i programmi che dobbiamo lavorare pesantemente con i database andatevi a cercare una libreria di ORM la più famosa si chiama Hibernate però Hibernate forse c'è una Y forse è Hibernate con la Y non sono certo sta per ibernazione cioè i dati Java vengono ibernati salvati congelati nel database in un certo senso però queste librerie qua non si ve lo dico solo non si imparano in due ore ecco ci vuole un percorso abbastanza complesso di 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 entrare nella loro logica di funzionamento noi invece siamo stati solamente dati delle regole chiamiamole salvavita nel senso che quando leggiamo un database quali sono i modi con cui creiamo le classi del modello su cui poi lavoreremo lavoreranno i metodi del DAO eccetera eccetera un'ultima nota sempre su questo tema degli ORM è l'identità degli oggetti questo in realtà l'abbiamo già in qualche esercizio è già saltato fuori immaginiamo di avere che so avere una query nel nostro DAO e crea degli oggetti ok dentro la query creiamo un nuovo oggetto con certi attributi se però ad esempio questi oggetti qua fossero parte di una relazione molti a molti può capitare che lo stesso oggetto creator venga creato più volte perché associato a entità diverse dall'altro lato della relazione cioè qui si parlava di articoli e di autore di articoli ok quindi un articolo può avere molti autori va bene allora io leggo un articolo per volta e di ciascun articolo faccio una query per ottenere tutti i suoi autori questi autori li leggo con una query costruisco l'oggetto e aggiungo questo oggetto a una collection una lista di autori di questo articolo banale poi passo all'articolo successivo farò un'altra query e avrà degli altri autori passo all'articolo successivo faccio un'altra query e avrà degli altri autori quindi di fatto ogni articolo ha una sua collection creators seguendo la regola che abbiamo detto prima o un attributo di tipo collection però cosa capita se lo stesso autore è autore dei più articoli vuol dire che nell'articolo 1 e nell'articolo 2 nella lista degli autori dei creators ci sarà un oggetto uguale all'altro quindi avrò l'articolo 1 che contiene creatore 1 creatore 2 creatore 3 l'articolo 2 che contiene creatore 4 creatore 5 e magari il nuovo creatore 2 nella sua lista dei creators questo oggetto creatore 2 e questo oggetto creatore 2 cosa sono? sono due oggetti java diversi perché sono stati creati con new diverse che contengono gli stessi valori quindi sono oggetti che sono diversi secondo java fisicamente stanno in parti di memoria diverse ma contengono gli stessi valori e quindi sono uguali sia secondo equals che secondo hash code questo è un problema? nella maggior parte dei casi no perché nella maggior parte dei casi tutte le collection lavorano sul concetto di uguaglianza programmato da equals quindi se voglio cercare un oggetto dico ma allora questo autore è anche autore di quell'altro farò un index farò un index farò una ricerca farò un confronto usalo sempre equals quindi il fatto di avere oggetti identi diversi ma che contengono gli stessi valori nel modo di lavorare java spesso non dà non dà non dà non dà non dà problemi però ci sono dei casi in cui potrei volere che questi due oggetti in realtà fossero lo stesso oggetto questo oggetto qua ce l'ho già perché lo devo ricreare uguale allora innanzitutto ricreare l'uguale non è un male abbiamo detto non è grave però sembra che sia a un lavoro in più e b mi crea dei problemi nel momento in cui dovessi modificare dei dati perché se modifico un dato di questo c2 allora quell'altro è un oggetto diverso e quindi i dati al suo interno non saranno modificati questo lo riprenderemo quando faremo i grafi quando dovremo modificare alcuni attributi dei vertici allora la domanda che ci poniamo ma c'è un modo per far sì che se ho più oggetti che sono uguali tra di loro in realtà possa creare un oggetto solo anziché due uguali e la risposta come sempre è sì ma te lo devi fare te lo devi fare creando una mappa il modo più semplice è di dire guarda io voglio evitare di creare due istanze uguali gli oggetti e quindi quando capitasse di dover creare una seconda volta un oggetto che ho già voglio restituire il riferimento all'oggetto che ho già allora nessuno mi vieta di costruire una mappa nella quale vado a memorizzare tutti gli oggetti che ho già letto un pochino l'abbiamo già fatto questo lavoro questi tutte le volte che creo un nuovo oggetto non solo lo restituisco lo metto nella lista che mi serve eccetera ma lo metto anche in una mappa perché una mappa perché la mappa è facile da accedere conoscendo l'ID conoscendo la chiave primaria conosco la chiave primaria e dico allora di questo creator questi ID qua lo conosco già allora se lo conosco già vuol dire che questo oggetto l'ho già messo in una mappa e lo posso anziché creare un nuovo oggetto recupero l'oggetto che c'era già nella mappa viceversa se questo ID non l'ho mai visto allora creerò il nuovo oggetto e lo aggiungerò in conseguenza alla mappa stessa questo pattern si chiama identity map talvolta ci capiterà di usarlo e quindi all'interno dei nostri metodi metodo DAO cercheremo di non evitare di creare oggetti quando questi oggetti già ci sono e quindi tutte le volte che vogliamo trovare un oggetto prima andiamo a vedere se c'è nell'identity map se non c'è invece allora faccio la query faccio la select per andarlo a pescare ok a livello java alla fine è più facile da farsi che da dirsi questo se ho questa necessità potrò avere nel mio caso si chiamava creator id map è un nome che diamo noi chiamiamo id map per ricordarci che è un identity map degli oggetti tipo creator che avranno come come chiave una mappa che avrà come chiave ad esempio l'integer che è l'id del creatore e come valore un oggetto tipo creator quindi io potrò avere il creatore 22 quindi nella mappa avrò chiave 22 valore dell'oggetto creatore che tra i suoi campi ovviamente ha id 22 e poi tutti gli altri campi dell'oggetto quindi creo un oggetto una mappa scusate che che contenga un oggetto di tipo mappa come chiave la chiave primaria della tabella come valore l'oggetto corrispondente a quella tabella e fatemi vedere se no non c'è codice scritto tutte le volte che carico un oggetto dovrò controllare ovviamente il metodo del DAO dovrà avere accesso a questo identity map e dovremo controllare se c'è un oggetto oppure se lo aggiungiamo se l'oggetto c'è già oppure se lo aggiungeremo allora su questo io qua mi fermo nel senso che questo abbiamo dato un nome a identity map a questo concetto di cercare di conservare i riferimenti agli oggetti e non creare oggetti che ci siano già lo vediamo poi chiaramente poi negli esercizi quando applicheremo questo metodo quindi gli esercizi che faremo insieme le prossime volte poi quando ci arriviamo ai grafi lo faremo parecchie volte diremo adesso qua mi conviene creare un identity map e quindi il passo successivo rispetto a questo concetto qua che vi ho raccontato nelle slide lo faremo poi direttamente negli esercizi dove ragioneremo a livello di codice proprio come ci conviene in organizzare queste cose è un'aggiunta rispetto è sempre un corollario del fatto che in java è complicato mappare le relazioni SQL e questo identity map è una complicazione in più dovuto al fatto che nelle relazioni molti a molti io posso trovare lo stesso oggetto da più strade diverse in SQL non è un problema perché quello che conta è un solo di valori in java è un problema perché quello che conta sono anche i riferimenti e allora in quel caso oltre a essere complicato creare gli oggetti creare le collection è anche complicato poi gestire i riferimenti per questo ci serve di solito una struttura dati in più l'unica altra parola che voglio aggiungere adesso è attenzione che non è detto che tutto quello che vi ho raccontato in quest'ora serva sempre a me capita troppo spesso di vedere soprattutto in esame soprattutto da persone che sono un pochino diciamo così più deboli nella preparazione che quando devono fare una query cominciano subito a creare gli attributi l'identity map eccetera eccetera quando poi magari non gli serve devono fare una query molto semplice perché c'è una sorta di voce di corridoio che dice che se fai tutto questo è meglio no no se fai tutto questo sicuramente ci metti più tempo a implementarlo poi a volte questo tempo ti torna nel senso che ti conviene è più efficace per te a volte invece è una complicazione eccessiva rispetto al problema quindi tutti questi pattern tutti questi suggerimenti tutte queste ricette sono possibilità possiamo fare così se ci serve risolvere quel problema quella è una possibile soluzione ma prima di tutto dobbiamo capire se il problema c'è e non me lo sto inventando quindi non usate tutti questi metodi lo dico forse per decima volta oggi solo se ce ne è bisogno altrimenti non usate e non consideriamo neppure l'identity map serve nel momento in cui abbiamo veramente bisogno di avere un oggetto unico quando ne abbiamo bisogno quando ci sono degli altri attributi che devono essere modificati qui mi fermo e poi lo vedremo più in concreto chiaramente quando questo succede questa mappa dovrà essere passata non tanto le classi ma tutti i metodi che la usano quindi ogni metodo del DAO che crea nuovi oggetti deve avere quel riferimento lì quindi questa mappa si porta dietro viene portata dietro e passata avanti e indietro purtroppo come parametro in più per quello si complica si appesantisce parecchio il codice ok quindi consideriamolo se ci è necessario veramente ok quindi abbiamo visto un po' di concetti teorici ma come sempre li metteremo poi in pratica quando faremo gli esercizi abbiamo dato dei nomi a delle procedure ci siamo dati delle regole come dicevo prima di arrivare alle relazioni avevamo già capito tutto l'avevamo già fatto negli esempi empiricamente l'agionamento sulle relazioni è un pochino complicato e lo vedremo meglio sugli esempi la costruttore delle classi DAO sì sì questo è un modo sì poi come gestite questa classe questa mappa sicuramente va memorizzata dentro il modello perché è il modello che deve conoscere tutte le informazioni poi se volete passare un riferimento all'idmap nel costruttore del DAO bene se invece volete passarlo ad ogni singolo metodo del DAO va bene lo stesso forse nel secondo caso è più esplicito nel primo caso è più comodo c'è la pass nel costruttore del DAO nel secondo caso è più esplicito perché ti dico che quel metodo lì la usa e la può modificare la mappa però come sempre non c'è la risposta giusta vanno bene entrambi i casi è chiaro che il codice che c'è dentro il metodo del DAO deve poter avere accesso a questo oggetto oggetto che è stato creato e memorizzato dentro il modello sempre ok allora se non ci sono altre domande potremmo fare un po' di pausa e poi nell'ora successiva cambiamo argomento e parliamo sempre della serie argomenti in sospeso che chiudiamo oggi delle date della gestione delle date delle librerie sulle date ricordate già la prima lezione gli ho fatto scrivere local date senza spiegarvi cosa fosse oggi è venuto il momento di spiegarlo l'entity map serve sia in fase di creazione che di modifica degli oggetti di creazione direi perché la modifica posso modificarlo l'oggetto puntato senza andare a ricreare il riferimento nella mappa tanto la mappa punta già all'oggetto se modifico l'oggetto non ho bisogno purché non modifichi la chiave ma la chiave non va modificata mai però come dicevo lo vediamo meglio in pratica ok vi posso dare un po' di intervallo un quarto d'ora ci riprendiamo alle 10.30 e facciamo la parte sulle date cercando di essere anche qui abbastanza pragmatici soprattutto su quali sono le classi e i metodi che vogliamo usare ok allora ci rivediamo alle 10.30 per la seconda parte di un po' di intervallo